Ciao amici di Italia Top Games, giovedì 16 maggio e come ogni giovedì mattina siamo qui a mostrarvi le novità di PES 2019 però prima diciamo subito due cose la prima è che Konami dovrebbe davvero muoversi per presentare PES 2020 perché oramai la stagione di PES 2019 è agli sgoccioli sta proponendo sì gli aggiornamenti settimanali ma sempre reiterando cose già viste nel corso della stagione all'incirca e tutti siamo interessati a PES 2020 oramai o qualche giorno fa avevo scritto un articolo in cui su Italia Top Games dicevo che oramai è questione di giorni ma sarà presentato PES 2020 perché? Perché fra poco c'è le 3 di Los Angeles e male che vada sarà presentato lì però speriamo che prima un teaser precedente arrivi così tanto per avere un'idea di quello che sarà PES 2020 detto questo oggi pomeriggio vi ricordo come ogni giovedì l'appuntamento con il TG Tech oggi si vince Amazon Fire TV Stick il piccolo agigino da mettere sulla vostra tv e poter vedere tutti i canali streaming che volete ovviamente un premio davvero da non perdere alle 15 pubblicazioni della domanda su Italia Top Games alle 16 la trasmissione in diretta in cui vi racconterò delle 3 notizie più calde della settimana al mondo dei videogiochi e della tecnologia e poi appunto il contest da vincere siete in tantissimi a partecipare provate se non vincete che prima o poi dai ce la farete anche voi se ancora non avete vinto comunque adesso veniamo a PES 2019 ecco i giocatori in forma Neymar, Messi, Aguero Aubameyang, Pibke, David Silva, Vidal tutti questi giocatori del Barcellona ovviamente non è considerata la sciagurata sconfitta contro il Liverpool in Champions League ma solo i rendimenti del campionato Sergio Busquets, Van Dijk, Ioris, Courtois, Alisson, Muntiti, Manet, Zeco, Rakitic, Di Maria, Paoligno e poi scendiamo troviamo Zonzi della Roma Belotti e Ilicic dell'Atalanta Pizzi e poi Lulic sempre niente a che fare con la Coppa Italia Marorui del Napoli e poi scendiamo fino ai 75 Junes pure fino ai 75 consigli Cosenz dell'Atalanta niente Coppa Italia ieri però quel rigore per l'Atalanta c'era bello netto diciamo, ammettiamolo Pandev poi Larsen e tanti altri fino appunto a tutti questi 75 chi scende? scende Dybal scende Iguain Marcello Casemiro scende Caligiuri scende Ferrari scende La Guardia e vediamo fino ai 75 Tonelli della Sampdoria Pasalic dell'Atalanta ed ecco qui siamo arrivati ai 75 andiamo dunque a vedere le novità non nuove per così dire le vecchie novità le novità vecchie di oggi allora qui intanto vediamo i giocatori in risalto e come potete vedere ci sono molti giocatori del Palmeiras e perché la gente squadra è proprio dedicato al Palmeiras e adesso lo andremo a vedere e poi ci sono anche altri giocatori ma vediamo tutto in dettaglio allora anche questa settimana non ho giocato tante cose da fare tanti impegni tanti altri giochi anche da recensire è un duro lavoro ma qualcuno lo deve pure fare e rimango in divisione 12 e poi dai è da agosto che gioco a PES 2019 siamo arrivati un po' alla fine della stagione come già vi ho detto comunque allora vediamo quello che c'è di nuovo perché ancora in perterrito continua a giocare a PES 2019 e fa bene se si diverte allora National Stassup pull da collezione eccoli qui 90 palloni argento 45 d'oro e 15 neri chi abbiamo? abbiamo Nevar Lewandowski Oblak Wameyang Kanteo Zil Lukaku Boateng Di Maria Mare Kamsik Benatia Tiango Alaba Alaba Varane Dembele Kongdobia Walker Giroup Rui Patrizio Iago Aspes Stones Marco Asensio Lemar Mendy Rudiger e scendendo scendendo ci sono vari giocatori National Start ci possono stare davvero tutti i giocatori vediamo il pull da collezione B che avrà più o meno ecco le stesse statistiche e qui abbiamo Modric Hazard Cavani Sanchez Bale Marcello Hummels James Rodríguez Casemiro e poi Ramsey Marquinhos Verratti Gimenez Daniel Cavaghal Zaha Goretzka Torreira e poi eccetera 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 dai National Start tanti giocatori se qualcuno vi interessa in particolari andiamo a vedere invece più interessante i Players of the Week allora questi sono i giocatori IF che forse avete letto di Sitaria Talk Games torneranno al 99% anche in PS 2020 dichiarazione ufficiale di Konami ecco le 15 giocatori vediamo Vidal che aumenta un po' in tutti i parametri soprattutto recupero palla Manet velocità 98 impressionante Gundogan qui un po' tutti difensore francese Laporte colpo di testa 91 Gigione Donna Roma riflessi 96 portiere 95 De Silvestre del Torino aumento generalizzato soprattutto abilità offensiva va 80 Mario lui del Napoli aumenta in velocità 86 potenza di Rompent 88 Tadic Ajax aumenta un po' dappertutto Cornet abilità offensiva 84 velocità addirittura 91 Doan piccoli aumenti dappertutto e Omarsson pure una punta da 81 che nessuno vorrà pescare ovviamente perché è il giocatore più scarso e poi abbiamo giocatori del Palmares e del Santos e poi andiamo a vedere la Russian Premier League ma la vediamo dopo iniziamo dai giocatori del Palmares 100% palle nere 8 giocatori abbiamo una vecchia conoscenza del calcio italiano Felipe Melo Dudu velocità 91 potenza interrompente 95 Lucas Lima controllo palla 92 Borca 87 totale abbiamo abilità offensiva 92 finalizzazione 91 Bruno Enrique 86 aumento generalizzato Weverton riflessi e copertura grande aumento Gomez abilità difensiva 90 recupero palla 91 e Dei Everson che ha vinto soprattutto in colpo di testa 91 abilità offensiva 90 una punta da 85 tutti i palloni comunque Santos qui invece andiamo su quasi tutti d'oro quindi meno interessanti abbiamo questo Sanchez che aumenta in velocità in potenza interrompente Jean Mota Luis Felipe che è un omonimo questo è meno famoso Diego Pituca Rodrigo potenza interrompente 95 niente male Yuri Alberto che in finalizzazione passa da 79 a 90 Capperi Eduardo Sasha velocità 86 potenza interrompente 86 Artur Gomez anche lui potenza interrompente 95 velocità 93 però sono tutti palloni d'oro questi ultimi quindi più interessante la gente palmeras che ha invece tutti i palloni neri qui poi abbiamo questa vecchia novità perché l'abbiamo già vista il mese scorso però è carina questa cosa dei dei marcatori dei gol del mese nel campionato russo speriamo che sarà fatto qualcosa di simile anche per altri campionati come ad esempio quello italiano spagnolo inglese eccetera allora abbiamo questo Pereira che aumenta un po' dappertutto soprattutto in controllo palla Miranciuk anche lui aumenta un po' dappertutto Eremenko potenza interrompente soprattutto aumenta Despotovic spero di averlo letto bene contatto fisico da 80 a 90 finalizzazione da 73 ad 86 Zinkowski che aumenta un po' dappertutto addirittura l'abilità offensiva da 68 passa ad 81 però due palle nere e tre d'oro giocatori un po' particolari non so forse qualcuno di voi segue il campionato russo io questi giocatori ammetto di non conoscerli e questo quindi è la situazione degli agenti settimanali allora andiamo a vedere poi le sfide di oggi Challenge Cup ormai lo sappiamo tre sfide la prima con i preparatori abilità preparatori di posizione e alla fine c'è anche un giro di agente in omaggio comunque andiamo a vedere eccola qui la Challenge Cup first draft bonus 14 preparatori di abilità dettagli di competizione vinci la partita al solito dalla seconda volta in poi 500 GP quindi questa è da fare una volta non è proprio quotidiana perché come al solito sono due giorni abbiamo la Coppa il Challenge contro i club titolati questa settimana quindi Palmeiras e come vedete c'è il solito agente Silver che io non non sopporto Palmeiras e Santos ovviamente c'è a battere tutte e due le squadre ma il premio è davvero scarzolello poi le Coppe Challenge Coppe Challenge andiamo a vedere One Match Challenge questa settimana niente Cop dopo tante settimane consecutive e qui abbiamo di vincere una partita singola e c'è la gente pull da collezione questo è più interessante giocatore di livello 30 National Stars A e quindi bene così questo è un 5 pieno non c'è davvero niente di nuovo in questo aggiornamento un 5 pieno relativamente perché è palese si percepisce proprio in maniera netta materiale la stanchezza di questi ultimi aggiornamenti di maggio quindi questo è un 5 pieno io non riesco davvero a dargli di più la stagione di PES 2019 è terminata però stiamo parlando di un gioco che ho fatto agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio dieci mesi davvero tanto tempo io ci ho giocato per circa nove mesi queste ultime settimane per impegni personali anche un po' infausti e per e per altri giochi da giocare soprattutto da recensire se è topgames.it PES l'ho dovuto mettere un attimo da parte anche ma non per per questi aggiornamenti perché alla fine mi sono divertito tantissimo giocare a PES 2019 lo confesso è proprio appunto per la mancanza di tempo certo qualche aggiornamento un pochino più invitante forse mi avrebbe portato a fare qualche partita in più ma davvero ho giocato tantissime ore quest'anno a PES 2019 per la felicità di mia moglie vi potete immaginare bene io vi ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento oggi pomeriggio con il TG Tech alle 16 alle 15 la domanda su Italia Top Games per vincere Amazon Fire TV Stick aspetto come al solito i vostri commenti i vostri voti e vi ringrazio come al solito dell'attenzione e al prossimo filmato ciao ciao